Prima di passare alla riflessione e spiegazione del messaggio che abbiamo appena letto, vi ricordo che in descrizione del video troverete il mio sito web waltersull.it e la possibilità di scaricare gratuitamente i libri che ho scritto per la gloria di Gesù e per la vostra salvezza. Quindi troverete i libri sul grande avvertimento, sull'inferno che esiste, la mia testimonianza e ovviamente questo libro molto importante che ho concluso in questi giorni, il manuale della sopravvivenza a fine dei tempi. Noi ovviamente clicchiamo acquista cartaceo su Amazon, io vi mostro che è anche presente su Amazon, non perché io ci debba guadagnare qualcosa ma affinché ognuno di voi possa avere anche la versione cartacea nel momento in cui arriverà la grande tripolazione e non avremo più energia elettrica per un periodo e quindi sarà necessario che tutti noi abbiamo a disposizione dei libri cartacei come questo, dove ho raccolto attraverso le varie rivelazioni di Luzia di Maria e tanti altri mistici, le piante medicinali per combattere le nuove malattie, le scorte di cibo, come fare le scorte di cibo e come trasformare la propria abitazione in un rifugio di preghiera, un cenacolo di preghiera protetto dagli angeli e benedetto dalla Santissima Trinità. Sia notato Gesù Cristo, benvenuti in questo primo capitolo del libro dedicato a Suor Maria, la tast, le straordinarie verità soprannaturali, della mistica, delle meraviglie che Gesù e la Madonna hanno formato in questo villaggio di Minbast nel 1800. Quindi ispirati dallo Spirito Santo iniziamo la lettura dell'introduzione che sarà formata da 4 capitoli, 4-5 capitoli. Andiamo a leggere il primo capitolo. E chiediamo no, chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci nella lettura. Il tabernacolo di Minbast Una casetta modesta, povera, fra i poveri, la dimora di grande che ne è. Al centro delle landes, fuori dal villaggio di Minbast, immersa nel silenzio, raccolta nel lavoro e nella pace, il santuario che Dio visita volentieri. Perché vi regna la sua volontà. Francesco, la testa dell'Elisabetta Purli, vivono del modesto terreno che coltivano, aiutati dalle due figlie maggiori, Quittere e Marguerite. Poco alla volta, anche Maria, la più piccola, parteciperà ai lavori comuni, ma non senza resistenza. Vivace, turbolenta, volitiva, ella rifiuterà di studiare. Perfino il Catechismo, l'unica scienza che sua madre possiede molto a fondo. Era nata il 21 febbraio 1822 a Minbast, non lontano dal luogo santificato qualche secolo prima dalla nascita di San Vincenzo de Paoli. A otto anni il carattere di Maria diventa un tratto scontroso, la sua intelligenza precoce le fa avvertire il vuoto delle sue occupazioni. Leggere, scrivere, cucire, filare non soddisfano la sua immaginazione ardente, il suo spirito penetrante e osservatore che più tardi sotto. L'ispirazione divina le permetterà di descrivere con tanta profondità le meraviglie della grazia. Non pensavo di essere nata per vivere una vita oscura in un villaggio come Minbast, confesserà Maria più tardi. Come avrei voluto appartenere ad una famiglia ricca, distinta, che mi avrebbe dato un'educazione brillante. Nascondevo in cuore quel pensiero e non lo dicevo a nessuno. Nutrivo quei pensieri e soffrivo di non poterli realizzare. Tale era il mio orgoglio. Ma la preghiera della mamma e la tenerezza di Margherit spalancarono poco poco quel cuoricino dolente a desideri infiniti che il Divino Maestro avrebbe regalmente colmati. Si avvicinava la prima comunione di Maria e ben presto si poteva leggere sul suo volto una profonda trasformazione. Il Signore le faceva sentire la sua presenza, preludio di grazie straordinarie, preparate per la bambina nel sacramento dell'amore. Poco tempo dopo, la prima comunione sentì il cuore illuminato da una fede viva nella presenza di Gesù, nell'ostia, e provavo un grande raccoglimento ogni volta che avevo la gioia di andare in chiesa. Un anno dopo, cioè quando avevo circa 13 anni, mi parve di vedere sull'altare una luce splendente dopo l'elevazione, ma non distinguevo niente di preciso. Intanto il cuore si accendeva d'amore per Dio dell'Eucalistia e avrei voluto unirvi spesso a Lui. Dall'ora il tabernacolo divenne il centro della sua vita. La mattina appena alzata correva in spirito verso l'altare e chiedeva a Gesù di tenere il suo cuore con lui, mentre lavorava o pascolava il gregge nei campi. Maria era sempre orientata verso questo polo di amore. Il tabernacolo di Gesù è il luogo dove amo ritirarmi, nascondermi, riposarmi. Vi trovo una vita che non so definire, una gioia che non so spiegare, una pace che non si trova in casa di nessun amico. Il tabernacolo di Gesù è un rifugio contro tutti i nemici, il sostegno. Nella debolezza la consolazione, nel dolore un'arma, nella lotta il cielo in terra. O tabernacolo di Gesù, del mio Dio, del mio tutto, ma quando il Signore innamorato di un'anima vuole che si risvegli alla vera luce, permette alle tribolazioni di assalirla. Quando ella ha capito il significato della prova e la strappa alle creature e al suo ego, lei si rivela il regno di Dio che abita in lei. Il cielo nell'esilio. Maria ci rivela il segreto degli anni dolorosi che la prepararono? Alle meraviglie. All'età di circa 14 anni, fui assalita dagli scrupoli. Provavo delle violente tentazioni. Mi sentivo schiacciata dalle pene, dalla fatiga, dall'aridità. Non trovavo consolazione in niente, né in Dio, né mia madre, che soffriva della mia sofferenza. Che intuiva, senza poterne capire il motivo, solo mia sorella, Margherite, era un angelo consolatore, che il cielo mi aveva messo vicino, ma anche lei non capiva che cosa provavo e nonostante l'affetto non sapeva come aiutarmi. Maria si rifugiava vicino al tabernacolo. Ma le sembrava vuoto e la comunione non faceva che accrescere il suo turbamento e la tristezza. Era come il giglio fra le spine, che conserva la freschezza e nessuno può toccare. Così il maestro le rivelava l'incanto della verginità e Maria avrebbe voluto farne voto, ma il suo prudente direttore non glielo permise che per un tempo limitato. Comunque, ne provò un certo sollievo e il suo amore inquieto cercò ancora più Dio nell'Eucalistia. Leggiamo dai suoi scritti, due amici veri, se sono lontani fra loro, non si contentano di pensare all'amico, ma desiderano vedersi, stare insieme, e le viste aumentano l'affetto reciproco. Io amo il Signore, ma sento che potrei amarlo di più. Perciò appena posso vado a trovarlo nel sacramento dell'altare. Lì per tanto tempo ho parlato da sola e gli dicevo poche parole. Ti amo, mio Gesù, oppure, Signore aumenta il mio amore per te. O andandomene, Signore benedici la tua piccolissima serva. Il Signore spesso mi ha ascoltato senza farmi sentire la sua voce in modo sensibile, però una voce interiore senza rumore di parole e piena di sovità mi diceva Figlia mia ti amo, figlia mia accetto il tuo cuore, figlia mia ti benedico. E io me ne andavo contenta. Eppure l'inverno non era passato. Maria doveva imparare che il diletto è come un mazzetto di mirra che riserva le sue dolcezze alle anime coraggiose che hanno assaggiato la sua amarezza. La contadinella di Vimbast non ha l'esperienza di San Giovanni della Croce né la penna felice di Santa Teresa negli accenti laceranti di Sant'Angela da Foligno. Il suo umile linguaggio misto di quascone e di francese, così descrive l'azione di Dio in lei. Avevo 17 anni e senti svegliarsi in me tutte le passioni, pronte a far guerra. L'orgoglio della mia infanzia si destò più forte e la mia collero entrò nel cuore come fiele che mi stordiva e soffocava ogni momento. La mia suscettibilità si ritava per uno sguardo, un gesto, un niente che mi infastidiva. Che sofferenza, che vita in quel tempo, in cui non sapevo dove andare, che tribolazione. E io vedevo Gesù vittima d'amore per me nell'Eucalistia. Gesù aspettava. In una fresca mattina dell'autunno del 1839, anno delle tribolazioni, senti la mia anima, rischiarata e attirata verso il sacramento dell'altare. Camminavo quasi naturalmente e senza sforzo non vedevo niente, né giardini, né campi, né prati, né la gente di Vimbast. Vedevo solo il tabernacolo davanti a me. Finalmente entrai, in chiesa, o gioia, o felicità. Scorsi Gesù sull'altare, circondato dagli angeli, però una nebbiolina leggera mi impediva di vedere chiaramente. Il mio cuore si attaccava a lui, sempre più fortemente, e l'immagine diventava più chiara. Me ne stavo in un angolo della chiesa, e non osavo muovermi. Il Signore si mosse verso di me, mi chiamò con bontà e mi benedisse. Allora lo vidi chiaramente, un uomo pieno di maestà e di dolcezza. Non effondeva che amore, bontà e tenerezza. Da quel momento avrei voluto sfuggire ad ogni compagnia umana e chiudermi nel tabernacolo con Gesù. Ma la debolezza, la stanchezza, le cattive tendenze si impadronivano a tratti della sua anima e le facevano temere di soccombere. Allora Maria gridava, sia fatta la tua volontà, abbia ipità di me. E la luce sgorgava, e la luce sgorgava, come sempre, dal tabernacolo. Quando Gesù mi vuol parlare, dice Maria, o vuole mostrarsi a me, mi attira al tabernacolo. Io vi corro col corpo, o in spirito, quando posso andare in chiesa. Mi metto in ginocchio, penso a Gesù, lo adoro, gli do il mio cuore. Tutto sparisce, vedo solo Gesù, è un mondo nuovo. Cammino, vado con lui, sento la sua parola, e quando lui tace, mi trovo in ginocchio. Lado vera, quando l'ho ascoltato all'inizio. Talvolta Gesù si rivela, durante il ringraziamento, dopo la comunione, un giorno avevo Gesù nel cuore, e offrivo le mie adorazioni, il mio ringraziamento, il mio amore, mi abbandonavo totalmente a lui, dicendo, ecco la tua serva, vedi allora una luce più grande, di ogni altra luce, non so, se con gli occhi del corpo, o dell'anima. Al grado lo splendore, non ero accecata, perché la luce, era di una dolcezza inesprimibile. La luce si diffuse su di me, e io fui per così dire, trasformata in luce. Tutto scomparve, eccetto Gesù, che venne a me, mentre mi inginocchiavo, mi rialzò, e disse, io sono la luce del mondo. Queste grazie accrescevano l'amore di Maria, per la Santa Eucaristia, prima di ogni preghiera, di ogni azione. Ella si avvicina in spirito al tabernacolo, e non lascia più colui, che ha rapito il suo cuore. Che gioia quando sente il suo invito. Sempre, in cappello o in chiesa, spesso durante la messa, talvolta, aspetta di essere sceso, dal mio cuore, allora comincia a parlarmi, quando lo sento, lo vedo faccia a faccia. Allora succede in me un cambiamento, che non so esprimere. Mi sembra di essere sola col Signore. Non vedo più niente. Non mi accorgo di ciò che è vicino. Non vedo che sento che lui. Un altro giorno, pregavo in ginocchio davanti al tabernacolo, ringraziavo il Signore di tante grazie ricevute, e di quelle che mi avrebbe concesso. Quando lui apparve sull'altare, e ancora, stavo unita, col cuore e lo spirito Gesù, nel Santissimo Sacramento, ero felice. Aspettavo che mi facesse ascoltare la sua voce, piena di dolcezza per la mia anima. Poco dopo sentì la sua voce. Tante lodi d'amori per l'eucalistia appaiono nei racconti ingenui della contadinella. Gesù stesso si compiace nel farle tante domande sul fascino divino che egli esercita sulla sua anima pura. Figlia mia, che cosa ti attira verso l'altare, Signore, nella tua presenza nel Santissimo Sacramento? Che sentimenti provi allora? La dolcezza della tua misericordia, l'amabilità della tua virtù su di me. Trovi dunque un'attrattiva potente verso il tabernacolo? Sì, Signore, un'attrattiva irresistibile. Tu sei tutto per me. Il dialogo d'amore continua e Maria aveva la forza di ripetere questo atto eroico di abbandono. Signore, se ti piace, rinuncio alla dolcezza della tua presenza. Sia lodato a Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Vi aspetto nella seconda lettura, nel secondo capitolo dell'introduzione La pianta nel deserto. La pianta nel deserto.